Gli Stati Uniti d'America sono una delle poche nazioni industrializzate a non avere una copertura sanitaria universale. Il sistema ruota attorno alle assecurazioni, stipulate direttamente dai cittadini o dai datori di lavoro. Salvo gli anziani protetti dal programma Medicare e le persone a basso reddito protette da Medicaid. Ma malgrado Medicare, uno studio del 2012 ha rilevato che circa il 25% degli anziani dichiarava bancarotta a causa di spese mediche e il 43% doveva ipotecare o vendere la casa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2014 gli Stati Uniti hanno speso per l'assistenza sanitaria pro capite e in percentuale sul PIL di più rispetto a qualunque altra nazione. Eppure sono solo al 42esimo posto su 224 paesi per aspettativa di vita e, tra quelli ad alto reddito, hanno il tasso più alto di obesità, incidenti stradali, mortalità infantile, malattie cardiache e polmonari, infezioni per via sessuale, gravidanze in età adolescenziale, ferite e omicidi. Obama nel 2010 aveva varato una riforma che, senza arrivare al modello europeo, estendeva decisamente la copertura sanitaria. Una volta alla Casa Bianca, Trump ha provato più volte ad abolire l'Obamacare senza riuscirci. Ma la riforma fiscale di dicembre lo ha svuotato dall'interno, eliminando l'obbligo di assicurazione e le penali per chi non sottoscrive una polizza. Episodi come quello di Baltimora rischiano di moltiplicarsi.